Un mondo recante la sospensione delle danze, dei canti corali, la chiusura delle sale cinematografiche, dei teatri, la fine dei concerti rock, ma anche la sospensione delle feste religiose, delle sagre di paese, delle partite di calcio. Un mondo recante il crollo del numero di battesimi e matrimoni. Un mondo dove è stato proibito di celebrare i riti funebri per i morti. Un mondo senza danza analizza le trasformazioni antropologiche e culturali generate da un anno di pandemia. Dal calo del desiderio sessuale, agli spot dei grandi marchi inneggianti al distanziamento sociale, dall'abolizione delle messe alla crescita dei disturbi psichici fra gli adolescenti. Quanto sta accadendo oggi, inoltre, viene messo in relazione con il pensiero di filosofi come Heidegger, Deleuze, Spinoza, Nietzsche, ma anche Leopardi. Grazie. Grazie.